VITAMOZUO gruppi telegram fissati nel primo commento completamente quindi ragazzoli iniziamo da una sessione qualsiasi unico requisito ci vorranno soltanto qualche soldino per acquistare gli outwits il secondo personaggio donna mi raccomando una volta che abbiamo questi requisiti possiamo fare option online e andare su cambia personaggio ok ragazzola non è arrivato sul cambio personaggio andiamo sul secondo personaggio ovviamente deve essere donna quindi se non ce l'avete andatelo a creare proprio come faccio io e andate nella sessione online col personaggio donna ok ragazzoli se come me arrivati in sessione non vi spawnano i negozi dovete semplicemente cambiare sessione quindi fare option online trovano una sessione ovviamente non è una sessione solo inviti giusto per stare molto più tranquillo ok ragazzoli una volta rientrati in sessione ci richiamo in un negozio io ovviamente ho già fatto gli outfit per portarmi avanti quindi innanzitutto partiamo ovviamente dal primo dobbiamo andare verso la cassiera dobbiamo andare a prendere l'outfit della tuta da sub quindi andiamo su 43 su 50 quindi completi da sub e andiamo a mettere poi il 20 su 22 ok quindi questo qua dopodiché una volta selezionato questo andiamo su accessori e andiamo a prendere semplicemente i guanti sono 3 outfit questo è già il primo quindi andiamo su guanti e andiamo a selezionare corazzati bosco chiaro quindi 32 su 72 mi raccomando ragazzoli appena iniziate assicuratevi anche di non avere nessun accessorio selezionato ok a parte ovviamente i guanti allora andiamo dalla cassiera andiamo ovviamente a salvare il primo outfit quindi il primo outfit facilissimo da fare andiamo sul secondo slot e mettiamo semplicemente il numero 1 adesso ovviamente andiamo a fare il secondo outfit ok quindi vado a cambiare di stile andiamo a selezionare il secondo secondo anche questo molto facile andiamo innanzitutto sui pantaloni quindi andiamo su pantaloni andiamo su pantaloni sportivi 4 su 19 dopodiché andiamo a selezionare i mascol maculati ok una volta fatto ciò ragazzuoli possiamo andare sulle parti superiori quindi parti superiori dobbiamo andare su 52 su 66 ok quindi 52 su 66 quindi bikini mi raccomando e andare a mettere il 27 su 30 dopodiché facciamo una volta cerchio quindi come vedete ci sono i bikini nero sotto la giacca ok facciamo una volta cerchio andiamo su 14 questa volta su 66 e andiamo a mettere proprio la giacca quindi sotto la giacca ci sarà il bikini nero ok quindi giacche tattiche le andiamo a selezionare e andiamo a mettere il 79 su 79 perfetto a questo punto ragazzuoli ci mancano solo le scarpe quindi andiamo su scarpe anche le scarpe saranno anche uguali per il terzo outfit che andiamo a fare quindi andiamo su scarpe andiamo su 2 su 18 e poi andiamo a selezionare il 24 su 55 ok quindi le deluxe militare mezzanotte quindi andiamo su stivali attacco alto e poi deluxe militare a mezzanotte perfetto questo qua è il secondo outfit da fare quindi perciò andiamo dalla cassiera buonasera signorino e andiamo a salvare il secondo outfit andiamo a fare l'ultimo outfit e lo andiamo a selezionare quindi abbiamo già quasi finito sul terzo outfit partiamo ovviamente dalle parti superiori in realtà cambiamo soltanto le parti superiori quindi su parti superiori dobbiamo andare su 13 su 66 ok quindi 13 su 66 quindi giacche da lavoro e dobbiamo andare a selezionare il 38 su 46 dopodiché ragazzuoli andiamo una volta cerchio andiamo sul 26 su 66 quindi magliette da trafficante e andiamo a selezionare il 60 su 60 perfetto questo qua è anche finito possiamo andare dalla cassiera selezionare ovviamente freccia destra e andare a salvare il terzo outfit quindi gli outfit saranno ve li faccio rivedere il primo questo qua da sub insieme ai guanti poi ci sarà il secondo con ovviamente i mascol maculati e poi il terzo questo con la maglietta da trafficante perfetto a questo punto una volta che abbiamo tutti quanti gli outfit a posto menu interazione andiamo su ucciditi quindi andiamo a suicidarci ok ragazzuoli una volta respawnati in sessione semplicemente option online e ce ne andiamo ovviamente nel creatore una volta arrivati nel creatore andiamo su crea una gara andiamo su tutorial aspettiamo tutta l'animazione che va ovviamente a caricarsi una volta che ci sarà questa schermata facciamo option online e ce ne andiamo su seleziona personaggio ok ragazzuoli non è arrivato in selezione personaggio fate attenzione a questa parte perché è il cuore della modalità creatore andiamo a selezionare il secondo personaggio a questo punto premiamo quadrato per eliminarlo ok scriviamo proprio elimina ci fa scrivere elimina a questo punto aspettiamo il caricamento di questa pagina una volta che caricherà il secondo personaggio nuovo fate attenzione a questa parte se siamo da old gen quindi ps4 o xbox vecchia generazione dobbiamo premere cerchio per andarci in storia invece se siamo da ps5 comunque next gen dobbiamo farci invitare da un amico in mire differente e andremo direttamente in storia ovviamente dovete avere in possesso anche la storia perciò premiamo cerchio per andarcene in storia ok ragazzone appena saremo in storia appena ci darà ovviamente la possibilità premiamo option andiamo su online andiamo a giocare gta online e ce ne andiamo una sessione solo a inviti ok ragazzone appena rientrate in sessione la prima cosa da fare è recarsi in un negozio e andare a salvare l'outfit che avete in possesso mi raccomando non cambiate di stile perché se cambiate di stile l'andate a perdere quindi andiamo innanzitutto a salvare l'outfit sull'ultimo slot in modo da ovviamente non darci fastidio io lo vado a chiamare space ranger ok a questo punto ragazzuoli possiamo ovviamente andare a selezionare le tute quelle da motociclista ok perché hanno ovviamente i guantoni quindi le tute da motociclista queste qua queste ci porteranno ovviamente i guantoni sul nuovo outfit è anche vero che potete selezionare questi ovviamente queste tute oppure le maglie racing che hanno pure i guantoni quindi io vado a selezionare questo cerchio 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 dopodiché faccio option online attività avviattività andiamo su preferite andiamo su missioni e andiamo ad avviare a fare g vi ricordo che a fare g lo trovate su gruppi telegram fissati nel primo commento nel gruppo telegram dovete mettere il comando slash a fare g ok ragazzone una volta arrivati in a fare g mettiamo abbigliamento completi salvati mi raccomando confermiamo le impostazioni e invitiamo un nostro amico ok ragazzone una volta che il nostro amico sarà entrato semplicemente ci posizioniamo sul gioca ok fate attenzione a questa parte dobbiamo premere tre volte freccia destra quindi uno due e tre e ci mettiamo su pronto a giocare ok ragazzone una volta arrivati ovviamente nell'attività di affare g innanzitutto voglio ringraziare Roby Adry per la collaborazione nel video ovviamente non membro dello staff a questo punto ragazzone questo outfit ce lo andiamo a salvare in un appartamento io utilizzerò ovviamente quello delle eclipse tower ok ragazzone una volta arrivati nell'appartamento ovviamente andremo nel nostro armadio e andiamo a salvare il nostro bellissimo outfit con il busto invisibile ovviamente il cinturone e i pantaloni cargo a questo punto andiamo sugli outfit andiamo a salvarlo su uno slot qualsiasi questo ovviamente lo possiamo eliminare ormai non ci servirà più quindi lo possiamo mettere anche sulla parte 19 andare a scrivere esempio anche new ok quindi per ovviamente distinguere il nuovo outfit una volta salvato cerchio 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 possiamo quittare l'attività ok ragazzone una volta che ovviamente responeremo in sessione avremo il nostro outfit già salvato è anche logico che questo outfit lo potete personalizzare come volete ad esempio potete mettergli una qualsiasi maschera io ve lo faccio soltanto vedere come vedete non si sbagga quindi potete mettere qualsiasi maschera maschera compresa anche con il caschetto quindi lo potete personalizzare come volete ad esempio io metto questa maschera qua ok poi vado verso il cannocchiale freccia destra touchpad premuto poi ovviamente ci sta benissimo anche questa maschera accessori andiamo su testa andiamo su caschi anzi e andiamo a mettere ovviamente il casco antiproiettile nero facciamo cerchio 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 ci allontaniamo dal cannocchiale e ovviamente avremo messo anche la nostra maschera ed è veramente tanto carina possiamo anche ovviamente mettere degli occhiali quindi vi potete sbizzarrire come volete questo outfit in questo modo mi piace veramente tantissimo soprattutto questa maschera ci sta veramente da dio perciò ragazzuoli vi è piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella grazie